Eventi, sport e realizzazioni artistiche. Mancano pochi giorni alla scadenza di tre bandi del comune di Taranto rivolte agli operatori dei tre settori inseriti nella delibera 108-2020 sulla fase 2. Il primo bando è destinato ad associazioni e operatori che lavorano nel settore degli spettacoli della cultura. L'amministrazione Melucci offrirà il suo contributo per sostenere l'organizzazione degli eventi che si terranno a Taranto durante l'estate. Sono disponibili 50.000 euro che serviranno a coprire fino al 50% dell'eventuale disavanzo derivante dall'organizzazione degli eventi stessi che rispetteranno le indicazioni del bando. Le domande potranno essere inviate fino al prossimo 26 giugno. Scadrà sempre il prossimo 26 giugno il bando destinato ad associazioni e società sportive iscritte al CONI, anche federate per organizzare attività sportive per ragazzi anziani durante la stagione estiva. Anche in questo caso sono previsti 50.000 euro per contribuire alla realizzazione di tutti i progetti che rispetteranno i requisiti indicati nel bando. Tutti gli idonei quindi riceveranno una quota parte del plafond previsto. Anche il cosiddetto bonus mecenate fa parte delle misure previste per la fase 2. Destinatari sono artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, provenienti da tutta l'Unione Europea, che vorranno realizzare opere o installazioni temporanee o permanenti in uno dei luoghi della città indicati nel bando. Resta la possibilità per i partecipanti di indicare anche altri luoghi. Sono disponibili 30.000 euro da suddividere tra i 10 progetti che saranno ritenuti meritevoli dalla Commissione giudicatrice. Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno. In tutti i tre casi le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Taranto.